Siamo con l'assessore Alessandro Onorato, partiamo subito facendo un bilancio dell'estate che è appena terminata a livello di turismo per la nostra città. È una stagione pazzesca per Roma, Roma si è presta nel 2023 a battere ogni record di arrivi turistici, addirittura più dell'anno giubilare del 2000, c'è un trend incredibile, più o meno il 25% in più di arrivi rispetto all'anno prepandemico, il 2019 che fu un anno record. È frutto sicuramente del nostro straordinario patrimonio archeologico monumentale che amiamo, che vogliamo valorizzare, che garantisce un flusso di turismo stabile, ma noi da un anno e mezzo a questa parte abbiamo investito in maniera strategica nel portare a Roma i più grandi eventi sportivi, culturali, artistici, della moda per generare occasioni uniche per venire a Roma, anche se tu a Roma non vuoi venire perché vieni per quell'evento, per rimanere un giorno in più. Non ci accontentiamo più di un'immagine legata alla nostra storia, che è un'immagine molto preziosa, ma vorremmo comunicare anche una stagione molto moderna, quindi dai mondiali di skate all'arrivo del Giro d'Italia che torna a Roma e rimane a Roma, ai più grandi concerti, immaginate lo scorso anno abbiamo venduto più di 2 milioni di biglietti della stagione concertistica e questo spinge le persone davvero a venire una volta più, cosa che in passato nessuno si è mai posto come obiettivo. Ecco, in questo senso alle porte, diciamo così, c'è vista giubileo e come si sta preparando la città? Anche questo dall'idea di essere un appuntamento importantissimo da sfruttare. Dal punto di vista laico per Roma è un'opportunità unica, oltre all'appuntamento religioso che è fondamentale naturalmente per la nostra cultura e il nostro paese in generale, per milioni di pellegrini che sceglieranno di venire a Roma. Però per Roma è anche l'occasione per recuperare grandi gap infrastrutturali che la città si porta avanti e che grandi appuntamenti come il giubileo attraverso stanziamenti straordinari del governo nazionale ti permettono di migliorare il decoro della città. O fare operazioni straordinarie e mi riferisco al sottopasso di fronte a Castel Sant'Angelo, di fronte a San Pietro. E quindi è un'occasione importante di vetrina nella nostra città perché tante persone coglieranno l'occasione di giubileo per tornare a Roma. Perché questa è una città che si sta facendo trovare pronta, c'è una rivoluzione del sistema ricettivo. Roma ha sempre avuto pochi alberghi rispetto alle sue potenzialità, c'è una trasformazione unica. E anche nel settore lusso, che a Roma ha sempre mancato, 5 Stelle non è un tema d'elite, è un tema anche di garantire occasioni di lavoro migliori per chi si forma nelle università romane. E quindi c'è un lavoro enorme anche per diventare da un punto di vista ricettivo la città che in chiave internazionale avvicina chi vuole studiare, chi vuole crescere, chi vuole sperimentare. Ma anche chi vuole provare, soprattutto sulle arti, dalla moda alla cultura, Roma può essere assolutamente la prima città nel mondo. Possiamo dire che questo anno e mezzo tutti i più grandi gruppi, dal cinema, quindi dall'audiovisivo, all'intrattenimento, alla musica, alla moda, seppur volevano venire a Roma scappavano perché si era stratificato negli anni un mito che a Roma non si possono fare le cose, non si possono fare gli eventi, non si può fare nulla perché è tutto complicato. Ecco, mi sento di dire che dalla sfilata di Valentino alla Cavalcade che sono i più grandi proprietari di Ferrari collezionisti, ad iniziative che hanno avuto poi un grande risvolto sociale. Perché quando tu porti qua i 130 acquirenti di Ferrari più importanti del mondo sono gli stessi che fanno un'asta e danno un milione e mezzo di euro in donazione, mecenatismo puro per rifare una scuola chiusa da 30 anni ad Ostia. Questo vuol dire che gli investimenti, attrarre investimenti, non vuol dire puntare all'elite e dimenticare la gente, la massa, il popolo, ma proprio grazie a questi investimenti tutte le romani e tutti i romani a partire dalle periferie possono vivere meglio perché i loro figli e loro stessi quando perdono il lavoro magari a 50 anni hanno l'occasione di rientrare nel mercato, ma senza investimenti, senza economia, senza imprese la città non gira. Mi sento di dire che dopo un anno e otto mesi vedere che Roma ridiventa una città attrattiva è la dimostrazione che la politica se vuole può fare sistema e può riavvicinare gente che nel frattempo era scappata.